Primo appuntamento con il Cross Country, con il triathlon a Cremona. Intanto questa gara ha una particolarità rispetto al triathlon classico, in che cosa si differenzia? Mi hai detto bene, non è la prima volta che c'è il triathlon a Cremona, sono tanti anni che noi organizziamo gare sul territorio cremonese. Questa è una particolarità, come dice il nome, triathlon cross country, cioè utilizziamo praticamente le biciclette da mountain bike anziché la bici classica da corsa. Quindi al nuoto, alla corsa normale, si affianca questa volta la bici da mountain bike. Il percorso come sarà suddiviso? Allora abbiamo approfittato di uno splendido posto che abbiamo qua a Cremona, che è il Parco Al Po, che è la zona, diciamo, limitrofa al bocciodromo e alla piscina comunale coperta e tutto il percorso si svolgerà su e giù degli argini intorno alla pista ciclabile, senza mai toccare ovviamente l'asfalto. E questo è un po' questo anche il motivo, no? Della scelta di fare un triathlon cross country. Sì, sì, vogliamo valorizzare questa nostra bellissima zona. È uno stadio naturale e quindi il pubblico che vorrà assistere a questa gara potrà vedere in ogni momento la gara nel suo pieno svolgimento, dalla piscina comunale, splendida piscina comunale, con le tribune, all'esterno la zona a cambio che è allestita proprio all'esterno della piscina comunale, tutto il percorso di mountain bike che si svolge su e giù dagli argini, come dicevo prima, intorno al parco Alpò e la parte finale sullo splendida passeggiata delle nostre canottieri. Quindi in riva, in riva Alpò, con la riva finale al gocciodromo. Mille metri di nuoto, 20 km di mountain bike, 8 km di corsa. A che ora si parte? Si parte a mezzogiorno, mezzogiorno in punto il cannone spara il suo colpo di... Quanti atleti vi aspettate? Devo dire che per questa disciplina non saranno tantissimo, poco meno di 100. Ma lo sapevamo perché è una prima volta, innanzitutto. Io come delegato provinciale devo fare promozione sul territorio. Questa è una disciplina, diciamo, nuova che sta prendendo piedi perché ci sono in Italia e nel mondo diversi circuiti, Xterra, sempre con la mountain bike, nonché il T-Natura, sempre con la mountain bike. Per cui stiamo cercando di avviare questa nuova disciplina del triathlon. Per iscriversi? Per iscriversi basta andare sul sito della federazione www.fitri.it oppure anche in Facebook, abbiamo fatto una pagina Facebook con Primo Cremona Cross Country. Ecco, tutti possono iscriversi? Possono iscriversi tutti. O ci sono delle limitazioni? No, 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 non ci sono limitazioni di età, possono iscriversi tutti, a patto che si presentino con un certificato medico. Di medicina sportiva? Di medicina sportiva, con la dicitura triathlon. Quindi l'importante è questo, però ci sarà anche una parentesi per i bambini. Sì, abbiamo approfittato di questo perché facendo questo sforzo organizzativo abbiamo pensato di dare spazio anche ai bambini, quindi alle nove e mezza ci sarà una gara per i bambini, è un duathlon. Non prevede il nuoto. Non prevede il nuoto perché magari la stagione è ancora un po' freddina per i bambini, quindi li facciamo solo correre e andare in bicicletta e sicuramente si divertiranno sui percorsi sempre intorno al Parco Al Po. E ultima cosa, ci saranno anche dei premi. Avete pensato a qualcosa di particolare? Sì, sì, sì. Queste gare sono promozionali, come dicevo prima, per promuovere la nostra disciplina e non sono previsti i premi in denaro. Quindi abbiamo raccolto una serie di premi per dar spazio anche alle eccellenze cremonesi, se posso fare qualche nome, Pomì, Vergani, le mostardi di Lucini e alcuni negozi che ci hanno dato una mano, Sport Special, l'Istituto di Corsa, la Spacca Bici, per cui avremo un nutrito pacco per le premiazioni. E anche un pacco gara perché in queste gare si usa dare un pacco gara iniziale per la partenza. Qual è stata la cosa più difficile nell'organizzazione? A parte trovare gli sponsor di questi tempi non è mai semplicissimo. Gli sporsi sono dici, però devo dire che ci hanno dato una grossa mano. Purtroppo si ricade sempre nelle solite cose un po' la burocrazia. Io organizzavo gare all'inizio 15-16 anni fa, era un po' più semplice e un po' più facile. Adesso diventa sempre un po' più difficile, insomma. E allora l'appuntamento è per domenica a mezzogiorno con la partenza davanti al bocciodromo comunale nella zona del Parco Al Po, delle piscine comunali, per questa prima esperienza del Cremona Triathlon Cross Country. Mi raccomando, andate su Facebook, andate sul sito, come si chiama il sito? www.fitri.it Per iscrivervi e provare questa emozione nella natura cremonese. Grazie ad Aldo Basola. Giovanni. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.